Tutte le 때�ini il turco Come va, mi dice, mi dice che è bello Mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice Nami, mi manda una domanda per te Si chiede da qua Si chiede da qua, che lo parla ai pezzi Lo introduco? A la presenza, si, se ne andrà Si, dà dove in me, qui si trova Prego, prego, ti accodo, vi prego E il permesso Per me O se, signora Mi permette? Prego! Il ripocrismo! Il ripocrismo! Signora, le dico subito che io vengo in questa casa perché la corte, l'eterna corte, mi ha stancato. La che? La corte! 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 Signora, sapete che io sto soffrendo? Sto soffrendo molto per fare una regina. Una regina. Lì, che paghi spieghiere! Sto da un lì studiato che paviente. Un momento, senti? A un momento per noi. Ma ci devo parlare! Ma non vai! Il piano è fatto se vuoi parlare. Sto da qui se non può parlare perché... Eh! Il piano è visto che stiava. Per il tempo è riscambato. Le gano, le gano. Le gano. Le gano significa che le gano. Le gano, 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 le gano. E io anche per cento e,… Vengali messe! Ha un gusto per i vecchi! All'inizio di famiglia! E mio fratello Marco benvenuti! All'inizio! Parlate, parlate pure! Ma perché nateci? Tirめ Edel percorso il figlio pur Henry! Signore io sono Filippo Primo eh! fu Luigi I e fu Maria Antonietta di Francia. E' una prossima parte di me. Ah, purtroppo sono solo. Non ho altri parenti di i miei cugini Enrico II ed Enrico III. Perché Enrico I saluti a voi. E' morto. No, è morto il Rico, è morto il Rico, è morto il Rico. Ehi, voi siamo io a qui. No, è un delicato. Ma non si sa qua, no. Guardate, a me ci riuscite da qui, con noi altri. Ma non vi preoccupate, signora. E' successo tanto tempo fa. Ehi, non mi vanno scavare pure. Come questo, signora, la storia? La storia, la storia è lì. E' un po' ci dovete perdonare, perché noi la storia non la conosciamo troppo bene. Vediamo, conoscissimo poche storie. Ma ricordo, un po' di giografia, non so se... E' un po' di giografia, una storia, una storia. Ma bah E' un po' di giografia, non so se... Voi, che mestiere fate? Signori, io sono il reddito. Grazie, grazie.